Come tutti i grandi pezzi di successo, effettivamente. Oggi invece non è così, oggi proprio perché si è capaci di armonizzare, grazie allo studio che i giovani hanno conseguito, allora uno non si contenta più di mettere quattro accordi in un giro armonico per fare una canzone, si ricercano delle cose un po' più sofisticate nelle armonizzazioni, però è chiaro che il pubblico, quelli che poi diventano i fruitori delle canzoni, della musica di oggi, hanno naturalmente il giro armonico incorporato quasi, tu nasci che già di per sé conosci e sapresti fare un giro armonico anche se non hai studiato musica, e allora questo va contro la naturalità, la professionalità di oggi, mettici poi tutta la strumentazione attuale fatta di computer, di strumenti sintetizzati, e che più ne ha più ne metta, cioè se puoi farti oggi un disco in una stanza da solo, basta che tu sappia suonare una tastiera, e questo è tutto a dire, insomma, ecco, questa è la differenza. Una cosa, il primo capito, proprio il libro si apre con la figura del jukebox, tra l'altro mi fa pensare a sabato scorso, che sono stato ospite a un compleanno, insomma, di un amico produttore, proprio in una villa delle parti di Via Noventana, dove c'era un jukebox molto bello, tra l'altro del 56 mi sembra fosse. Cosa rappresentava a quell'epoca il jukebox, questa figura che ormai è diventata un cimelio della memoria storica, effettivamente, di quei tempi? Infatti, guarda, io l'ho reso in un certo senso il protagonista narratore di questo mio libro, perché come ti dicevo prima, il sottotitolo è Memoria di un jukebox, ecco perché il libro si apre appunto con l'imbagine del jukebox, il jukebox è il vero protagonista di questa storia, che cosa poteva rappresentare per noi? Era come un iPod per un giovane d'oggi, un po' più grande, evidentemente era impossibile da portarselo dietro, però era un po' al servizio di tutti, quando si andava al bar di riferimento, bastava metterci 50 lire dentro e si gettonavano le canzoni che conteneva, insomma, ecco, quindi era, e che poi erano le canzoni di maggior successo, che ovviamente tutti i ragazzi apprezzavano in quel periodo, per cui erano gradite anche quando non venivano gettonate da te, direttamente per dire, hai capito? Da musicista, da detto ai lavori, da protagonista proprio della musica di quei tempi e anche di oggi, come, Giudi, questo, quel fatto che questo Cimelio, appunto questa figura, ormai è soltanto un suggestivo ricordo nella memoria, poi l'altro giorno l'abbiamo messo in funzione, effettivamente messo in funzione, si sentiva benissimo, e questo mi ha creato dei ricordi, a parte delle note Amarcord non indifferenti, poi a livello proprio di emozioni, emotivo, sicuramente, ma quali sono gli aspetti negativi e positivi, appunto, di questo passaggio epocale, anche poi per quanto riguarda quella che sono gli oggetti, appunto, gli strumenti proprio che, diciamo, che servono per fruire, appunto, della buona musica? Beh, guarda, intanto, chiariamo subito una cosa, ogni epoca evidentemente va avanti e usa poi il progresso come meglio può, è evidente che oggi con una scatoletta grande quanto un pacchetto di sigarette ci puoi mettere dentro 20.000 canzoni e portartelo in tasca e sentitele quando ti pare, già questo, insomma, mostra la grande, l'enorme differenza che c'è, appunto, con le possibilità di... Sì, ma con questo non si è perso qualcosa, Don Bacchi? Infatti, è la stessa cosa che dicevo prima quando parlavo degli autori della musica leggera, cioè prima facevi delle canzoni che erano alla base un istinto, scrivevi una canzone perché la sentivi e non con lo scopo di arricchirti vendendo magari milioni di dischi. La prima spinta era quella emozionale, cioè scrivevi una bella canzone perché naturalmente veniva fuori, diciamo, seguendo uno schema piuttosto semplice e oggi, ripeto, per scrivere una canzone ti metti davanti a un computer, insomma, ecco, quindi c'è comunque poi una freddezza di fondo e soprattutto c'è la voglia di riuscire a fare un prodotto, un prodotto che poi possa essere venduto e quindi arricchirti grazie a questo. È la stessa cosa con il jukebox, il jukebox era, come dire, la valigia dei sogni, noi ragazzi ci mettevamo fuori al bar d'estate, seduti ai tavolini e di volta in volta andava qualcuno a gettonare qualcosa e si ascoltavano le canzoni più piacevoli, in compagnia, tutti insieme, anche questo è un dato di fatto, serviva per aggregarci, per sentire la musica e goderne insieme. Oggi non è più così, oggi è giusto un concerto a uno stadio, puoi andare per stare insieme, ma guarda a casa non è mai uno stare insieme per, come dire, per comunicare, ma è uno stare insieme per stare ciascuno poi da solo, saltando tutto insieme, cantando insieme all'artista, ma tutto sommato c'è poca intimità, ecco, quella invece di cui godevano i ragazzi della mia generazione. Anche lui si ascoltava la musica, però poi si parlava anche di altro, insomma... Certamente, oggi, quando senti... La musica è la corona sonora, forse, della giornata, ecco, mettiamolo a dire. Direi che dovrebbe essere così. Io quando sento parlare, per esempio, dei ragazzi, delle canzoni di oggi, gli sento sempre dire, ah, bello quel riff, hai sentito quel suono, ah, la batteria l'hanno presa da quella, non so, di Steve Gadd, oppure il basso, ah, quell'altro, eccetera, eccetera. Cioè, si parla sempre di cose tecniche, non ho mai sentito nessuno che dicesse, ah, ho messo questa canzone, so, mentre facevo l'amore con la mia ragazza. Ecco, questa è la differenza. Prima avveniva questo, cioè la musica serviva proprio per avere un contatto e godere di quella musica in un momento così importante e particolare. Oggi questa cosa qua io non la sento più dire, poi magari accade lo stesso, però vorrei capire con quale canzoni oggi puoi dire, l'ho messa in sottofondo mentre stavo con la mia ragazza, insomma, ecco. Diventa una cosa molto movimentata adesso, giusto? Eh, beh, capisci. Certamente. Oggi metti il rap sotto e vabbè, te ne fregno. Non certo come comunque quando poi c'è stata l'epoca beat, di cui tu parli nel secondo capitolo, appunto, che ricordo hai dell'epoca beat appunto legata a Don Baghi?